Ciao ragazze, come state? Spero bene, nuovo video, vlog, scusatemi, vabbè, che riccio, come state? Spero bene, allora, questo è un video che riccio, parlerò un po' con voi appunto. Sì, ho i capelli da matto, per cui ho i capelli da matto, è sempre una nonnetta invecchiata, una donna invecchiata, in realtà non lo sono. Però vabbè, niente, mi devo fare un po' peggiai perché ho i capelli che fanno veramente schifo, a dir poco. E adesso sto pensando di rimettere il sesto, così non posso più vedere come sono. E' veramente, va, che fanno un po' peggiai. Sì, non mi piace la mano sui nostri capelli, e perciò adesso mi do una bella donata. Aspettate un secondo, se mi riesce. Ok, ci potrei riuscire. Sì, la stessa è una poppetta adesso. Ma, meglio di niente, alla fine. Meglio di nulla, dai. Adesso mi sento un po' più, un po' più umile. Un po' più in sintonia con me stessa, perché, sinceramente, non potevo più di avere i capelli un po' da anziana. Per quanto riguarda gli anziani, a me non mi interessa di avere dei capelli. Perchè, no. Adesso io vado in camera, devo toccare, e ci vediamo dopo, ok? Niente, ragazze, lascerò un video piccolo, quindi, traduzione, e l'altro lo farò, non traduzione, cioè, e non video tanto per, sì, tanto per, ragazze. Allora, adesso io mi rimetto gli occhiali, perché, finalmente, non vedo una mazza, ma, vabbè, dettagli, e niente, oddio, mi piacciono tantissimo, come lo avessi. Penso che io non vedevo per niente, invece dopo che la verità mi stanno dicendo un mondo. Già. Niente.